solo applausi stasera ragazzi buonasera grande vittoria 3 a 2 3 a 2 mi sta un po' su però però grandissima inter stasera un inter strabiliante strabiliante fenomenale proprio un'altra squadra sembrava cioè rispetto a un mesetto fa un mesetto un mese e mezzo fa proprio irriconoscibili una giocata delle giocate tic 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 non è difficile il calcio tic 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 pum pum gol pum pum gol proprio così subito subito 2 a 0 incredibile e atalanta che comunque ci ha fatto anche tribulare per un certo certo parte del primo tempo nel secondo tempo solo inter solo inter praticamente potevano fare almeno 4 5 di gol tanti gol magnati e poi ha trovato quest'altro gol muriel proprio trovato casuale però però comunque vittoria meritatissima non dobbiamo più lottare per nulla questo campionato contro il torino giocheremo rilassati pensando alla finale di champions quindi molto importante molto importante la vittoria di oggi molto importante o non avere perso oggi perché ci bastava anche un pareggio però vincere è ancora più bello ancora più bello con l'atalanta poi che sempre che ci fanno tribulare altra vittoria altra vittoria e lukaku fantastico lautaro fantastico e pure brosovic mi è piaciuta c'è il bianco bastoni ha avuto qualche incertezza ma anche lui ha giocato bene barella c'è l'anoglu di marco proprio persino dunfris 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 che non ha fatto chissà che però comunque la squadra ha giocato praticamente con con una con una scioltezza no sembrava praticamente non lo so c'è incredibile c'è proprio con un senza pensieri proprio così tic 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 pom 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 gol pop 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 gol va bene meno male meno male meno male qualche volta qualche sabato tranquillo anche se su 2 a 1 poi ho ottenuto questi qua pareggiano ci è mancato poco che pareggiassero però di per sé di per sé non c'è stata partita è stata partita e comunque teniamo anche contro abbiamo giocato mercoledì in trasferta a roma praticamente trasferta a roma dopo neanche tre giorni giovedì venerdì e sabato 72 ore già un'altra partita e già di una pagliacciata che avevamo dovuto giocare domani ma quello è un altro discorso però comunque abbiamo fatto un gran partitone mi sa che ha avuto pure modo di giostrarsi anche un po di turno ma neanche più di tanto perché poi alla fine a parte d'ambrosio e lukaku che veramente non sono i titolari tutti gli altri titolari quindi bene così grande grande inter grande inter ragazzi strabilianti incredibili irriconoscibili ma riconoscibili nel senso buono stavolta e uno dice avessimo fatto tutto il campionato così è impossibile adesso comunque abbiamo ci sono stati quei due mesi di sosta durante il mondiale non è una scusante però forse anche lì qualcosa ha cambiato poi non lo so abbiamo avuto un periodo no abbiamo avuto un periodo no credo che no che hanno tutti tutte le squadre in quel periodo lì sebbene magari avuto un po di più l'abbiamo addirittura perse quelle partite lì quindi sono 12 sconfitte che in parte pesano in questo campionato perché l'inter ha fatto praticamente un terzo del campionato merdoso cioè tutte abbiamo iniziato benino iniziato benino fino a nel finale di campionato benissimo perché comunque parte la sconfitta con napoli tutte le abbiamo vinte quindi voglio dire come punteggio negli ultimi l'ultimo mese di campionato stupendo abbiamo avuto quelle quelle quell'inghippo tra marzo e aprile che ci ha praticamente fatto chiudere il campionato e abbiamo rischiato anche di non qualificarsi in giro bus league ora sono qualificati ufficialmente quindi non so se terzi quarti vedremo ma comunque obiettivo minimo raggiunto anche in questo campionato meno male ed è bellissimo è bellissimo in questo momento perché possiamo perché in intagioni normali senza finale di champions finito basta invece scusate invece adesso abbiamo un'altra partita di campionato da giocare tranquillo col torino in trasferta ce la studiamo sempre in può mettere quello della primavera può mettere chiunque anche perché il campionato di primavera è anche finito quindi può mettere chiunque può mettere le riserve fare delle prove secondo me giocare pure il terzo portiere potrebbe giocare anche cordazze secondo me quindi ci sta ti può preparare la finale tranquillamente e basta ragazzi è fantastico è tutto fantastico stasera non possiamo che essere felici speranzosi sognatori sognatori sicuramente però tanta roba tanta roba un inter questo inter qua mi è proprio piaciuto mi sono un po divertito rispetto a tutte le altre volte che giocavamo di sigma ma veramente stiamo giocando in questa maniera cioè tutti sti errori invece oggi proprio si lottava su ogni pallone è una cosa incredibile proprio mi stupisco mi stupisco comunque tanta roba ragazzi tanto roba ragazzi allora niente che dire più grandissima inter noi ci vediamo nei prossimi giorni gameplay a manetta perché poi farò il gameplay della finale di europa league finale di conference finalissimo di stagione e sto pensando di fare anche qualche gameplay speciale ma ci sto ancora pensando e poi prossimo appuntamento ma è manca solo uno giornato di campionato non so se riuscirò ad andare allo stadio a torino quindi magari ma giusto per salutare l'inter dagli un po di magia positiva magia positiva per istanbul stiamo a vedere ragazzi se per forza inter che dal canale mi raccomando ci vediamo alla prossima buona domenica a presto dai così dai dai così dai dai